Ciao ragazzi, benvenuti al riff di oggi, vi farò ascoltare questo riff in slap. Benissimo, questo riff è tratto dal mio metodo Easy Slap, quindi nella descrizione vi metterò i link, andate sulla mia pagina web www.carlochirion.com, ascoltatevi tutti gli audio che ho messo a disposizione, di tutti gli esercizi, di tutti i miei metodi, oltre ad esserci molti video dove comunque spiego degli altri riff. Allora, partiamo con le note, andiamo a prendere un La con una strisciata che parte dal Sol. Quindi un colpo, il battere, e poi qua sul La, La, chiaramente, tasto 5 corda di Mi. Poi l'ottava, tasto 7 corda di Re, sempre La, poi Sol, basso e alto, quindi tasto 3 corda di Mi, e tasto 5 corda di Re. Qua vado sul Do, e poi sul Re. Ritmicamente ho ravvicinate sedicesimi, Do Do, dove il Do acuto lo lascio un po' più lungo. Questo è un sedicesimo, questo è un ottavo, e poi per concludere il quarto, ho ancora una nota morta, per cadere sul Re. Quindi la figurazione ritmica è il Ta Ta A Ta. Sedicesimo, ottavo, sedicesimo. Questo è il battere, poi il Re. Ok? Ve lo faccio fin qua lento. La, Sol, Do, Re. La seconda parte è molto simile, arriva fino al Do, uguale, poi anziché andare sul Re, vado sul Mi a vuoto. Quindi, tasto 0, corda di Mi. Mi a vuoto, e la sua ottava, tasto 2, corda di Re. Solo la seconda parte, Do, Mi. E riparte. Ok, benissimo, vi auguro un buon divertimento con lo Slap, mettetemi un Mi piace se vi è piaciuto il video, andate a vedervi sul mio sito gli audio di tutti gli esercizi Slap. Questo metodo è Easy Slap, quindi quello iniziale. Poi c'è l'Advanced, l'Advanced, che è il secondo, quello verde. Tutti e due i metodi sullo Slap, Easy e l'Advanced, sono raccolti poi in un libro, che è cartaceo, che viene venduto da Amazon, ve lo faccio vedere un secondo, ce l'ho qua. Eccolo. Versione cartacea, dove ci sono tutti gli esercizi. Io sono sempre per pochi fronzoli, quindi tanti esercizi e, diciamo, poca fuffa. C'è tanto materiale, pochi commenti, ma dove secondo me servono. La prefazione sia in italiano che in inglese. Se vi fa piacere, è in vendita su Amazon. Grazie a tutti, se vi va mettete un like. A presto, ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.